Non c'entriamo nulla con le impurità in mare nel tratto di costa tra Capodorlando e Sant'Agata Militello. Il nostro depuratore funziona, è stato adeguato a una condotta sottomarina di 400 metri e viene monitorato ogni giorno. E la risposta del sindaco di Caprileone Filippo Borrello alla nota inviata dal sindaco di Sant'Agata Militello Bruno Mancuso ai sindaci di Capodorlando, Caprileone e Torrenova. Sono stati denunciati problemi nel mare. Da questi problemi si smarca il sindaco Borrello. Il Comune di Caprileone è l'ultimo che ha realizzato la condotta sottomarina, completata pochissimi anni addietro, 3-4 anni addietro, è perfettamente a norma. Una condotta sottomarina lunga 400 metri, ha speso capitali importanti per la sistemazione, la messa a norma, l'adeguamento del depuratore e spende cifre notevoli per la manutenzione con una ditta che monitora quotidianamente la qualità delle acque reflui e con tanto di tabulati mensili che possiamo anche fornire a chiunque ne abbia interesse. Ogni anno quando qualcuno si lamenta dell'impurità delle acque, sentire tirato in ballo il nome di Caprileone ovviamente a un amministratore che fa sacrifici per essere in regola sotto questo punto di vista, dà fastidio e quindi ci ha ottenuto a puntualizzare certe cose. E' inutile che ci prendiamo in giro, dico gli impianti di depurazione, una buona parte degli impianti di depurazione sono obsoleti, le condotte sottomarine non ci sono o sono notevolmente danneggiate in parecchi casi, quindi è chiaro che ci sia da intervenire in più posti e questo lo sappiamo tutti e sappiamo anche dove sono i problemi, però ripeto, mi risulta intanto che una parte dei colleghi sindaci stia provvedendo, che ci siano dei finanziamenti in corso e dei lavori che dovranno iniziare e comunque secondo me con una telefonata e un incontro, un tavolo tecnico, guardandosi negli occhi e perché no anche all'interno di una riunione accusandosi a vicenda, se ci sono i presupposti per accusarsi, si può cercare di risolvere in maniera tecnica e capire quali sono le prospettive di miglioramento in questo settore senza magari generare confusione, ecco solo questo, io avrei preferito che non si tirassero in ballo i nomi di tutti i paesi così in generale perché in realtà sappiamo bene come risolvere i problemi e dove sono i problemi, quindi a Bruno dico solamente questo, la prossima volta ci sentiamo per telefono e ci incontriamo anziché affidare alla stampa una nota di questo genere. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!